Grazie a tutti. E anche il titolo del prossimo brano che dà il nome un po' a tutto. Il ballo è qui al servizio del viaggio, sono una serie di viaggi immaginari anche perché è molto meglio stare a casa e immaginarsi i viaggi, forse si risparmia e poi comunque sono molto piccolo di natura, quindi preferisco far così. Ancora un ballo è un ritorno da un viaggio, si è voglia di trovare qualcuno che faccia con noi ancora un ballo. Grazie. 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 Grazie.